vorrei proporre un testo abbastanza lungo oggi quindi visto che il tempo che abbiamo a disposizione è limitato andrei direttamente alla lettura eventualmente spendendo delle parole di commento alla fine ammesso che ne rimanga il tempo il titolo del testo è notre vie était un voyage la nostra vita era un viaggio sottotitolo romanzo dopo storico in apertura una citazione immagino che potrei tornare infinite volte in questa città e poi lasciarla portando con me una nostalgia sempre diversa forse questo è il motivo per cui non l'ho mai visitata preferendo restare dove sono a immaginare anonimo viaggiatore capitolo 1 7 agosto 2013 esterno giorno citazione i ricordi queste ombre troppo lunghe del nostro breve corpo vincenzo cardarelli a cosa servono questi viaggi a vedere i posti nei quali non vivremo a immaginare le vite per cui mai avremmo avuto coraggio noi ipocondriaci di fantasia si talentuosi nel raccontarci che è stata solo una questione di opportunità precluse alle nostre timidi origini perché sarebbero rimaste qui le opportunità protette in edifici troppo lussuosi celebri o minacciosi per non accontentarci di scrutarne le palpebre socchiuse e dietro a quei vetri cercare le vite altrui sola possibile evasione dalle nostre e poi seppure si potesse cambiare vita come si cambia vestito non starebbe comunque a coprire questi nostri vecchi corpi potremmo mai scordarci di noi come eravamo prima di quella vita nuova comunque sia provenendo dalla provincia io continuo a prediligere la metropoli benché spentisi da un pezzo i suoi bagliori nelle mie retine poiché negli agglomerati urbani incontrollati ci si può sempre camminare dentro senza sentirsi nel cortile di un ospedale psichiatrico è un po come con certi romanzi voluminosi che incutono timore a tutti coloro che non sanno trovarvi nessun rifugio ma solo l'ennesimo dovere sociale di brillantezza e presenzialismo intellettuale dilettantismi urbanistici approssimandoci a parigi provenienti dal nord della piccardia i nostri occhi italioti non credono all'interrotta distesa di pianure boschi e piccoli paesi vagamente caratteristici che si protendono quasi fino alle porte della grande città resterebbe piacevolmente sorpreso e imbarazzato chi si attendesse un immenso degrado suburbano tra laghi di cemento in stile stivale peninsulare questa periferia non appare assediata quanto le nostre dai giganteschi alveari dormitorio il che non mi porta a ipotizzare una maggiore umanità pianificatrice ma quantomeno un'intelligenza minimamente superiore a quella che decide i destini della mia terra di origine dove prima si cementifica e poi ci si chiede se sia servito a qualcosa oltre che a specularci ovviamente si arriva in superficie dopo il binomio ferrovia metropolitana ed è penombra grigiastra di un tardo pomeriggio più che degna di quei cieli bigi di paterna memoria qui in vacanza studio giusto 40 anni or sono una sera mio padre dovette coricarsi presto vista la levataccia del mattino seguente per trovarsi alla stazione con un conoscente che sarebbe arrivato con il treno notturno dall'italia destatosi di soprassalto e lancette al polso segnavano quasi le nove uscì alla svelta dalla stanza riconsegnando di volata la chiave alla portinaia di notte che certo temprata dalle sue ingrate mansioni gli apparve più arruffata che perplessa ma lui attribuì all'origine africana le ribellioni mattutine del capello ritrovatosi infine solo lungo quel placido fiume la vista ad un sole nascente tra le guglie di notre dame gli svelò l'arcano la sera prima il suo orologio doveva essersi addormentato insieme a lui emersi dunque da una delle fosse del metro ovunque disseminate parigi ci offre come presentazione un luogo il cui nome più che per nazionalismo per pudore linguistico preferisco riportare nell'italiano piazza della repubblica la prima sensazione che mi affanno a discernere non è di stupore ma nemmeno di familiarità sono di fronte a quello che mi sarei potuto legittimamente aspettare da una metropoli qualunque della vecchia europa qualcosa sul genere viali nei quali la luce morente non tocca il fondo e nuvole come catene montuose innevate al limite degli orizzonti segue un ridotto tragitto nello spaisamento lunare connaturato al trascinamento bagagli lungo strade mai viste prima che attraversano posti la cui vita appare accessibile solo alla fantasia audace malinconica o inquieta che sia finché da una cigolante scaletta a chiocciola vagamente inquietante io e la mia compagna di viaggio guadagniamo il riparo di quella che sarà la nostra casa nei prossimi sette giorni una minuscola camera doppia con servizi miniatura muri improbabili ma dei vicini di stanza piacevolmente silenti e misteriosi almeno per il momento dopo una fugace contemplazione estetica dell'indo decoro che tiene assieme la vecchiezza del contesto alberghiero eccomi già la finestra smagnoso di immagini almeno quanto di prendere possesso del mio posto in affitto dentro il quadro parigino uno dei più ambiti di ogni epoca non sono più un turista là in strada ma un abitante qua dietro a queste tende come sempre nelle rare situazioni analoghe che ho vissuto mi diletto nel figurarmi cosa avrei avuto dentro se fossi venuto in questo posto per restarvi affrontando quella desolazione che separa come terra di confine le tante strade di una stessa vita nella circostanza l'eccitazione avrebbe saputo stemperare la prensione venata di informe timore ma non cerco risposta preferendo indulgere al vuoi erismo non siamo forse in francia di facce di corpi di ipotetiche vite altrui scrutate con la rassicurazione che offre il mantenersi in disparte dal mio punto d'osservazione un terzo piano poco panoramico ma discretamente strategico comunque certe sensazioni non solo sento di averle già provate ma mi pare di averle anche già scritte quando sono stato a mio modo emigrante se ancora è concessa la gloria di questo termine quando quasi per un dovere di gioventù sono partito senza osare guardarmi indietro e poi ho tentato di resistere il più possibile dentro a ciò che oggi avrei paura persino a considerare seriamente un altro paese un'altra lingua un qualcosa d'altrui che non sono mai riuscito a far diventare mio ecco quello che scrivevo senza ragione se non il rancore sull'immancabile tacquino di quei miei giorni da terrone nella perfida albione per quanto tempo hai pensato che riuscire a pagarti un letto e un cesso in una città come questa avrebbe significato automaticamente lasciarti indietro alla stazioncina provinciale di partenza quel vociare giudicante della tua gente assieme ai complessi paralizzanti della tua estrazione quando poi ti sei ritrovato a contare le mance per pagarti concerti dove le nuove divinità dei palchi sono diecimila volte più a casa di te in questa londra che magari vedono per la prima volta e per qualche ora soltanto ma a te sembra ormai di guardarti intorno a casaccio cercando di ricavarti un tuo minimo spazio magari solo per zittire un po la pavida vocina in picciona di tutti quelli che infognati nella solita familiare vita casalinga per mail per telefono per lettera continuano a ricordarti che invidiabile sia la tua di vita a chiederti se tu abbia sperimentato di persona questa o quella roba di tendenza su cui loro pare si tengono al corrente senza tregua né altro scopo che il riempimento diligente del loro vuoto stagnante così ti capita di rivederti come eri da ragazzino quando qualche turista straniero capitato là sulle tue povere ma belle coste mediterranee magnificava splendori e tesori di quel posto unico al mondo il tuo paese che per te restavano sconosciuto tu che sei nato là dove c'è sempre il sogno e forse poco altro in posizione tanto marginale quanto strategica a due ore di treno roma a due di aereo londra la libertà la vita come continuavi a figurarti allora così prossime da non trovare paradossalmente mai il coraggio di avvicinarle come con quella compagna di banco che per due anni di liceo è lasciato abbandonata al suo palpito discreto nei tuoi confronti senza voler mai capirlo meglio preferendo piuttosto ignorarlo nella paura ad una luce troppo viva e vera per la fragilità dei tuoi occhietti miopi ma fragilità non significa sempre debolezza è vero anche se al mondo importano poco queste timide distinzioni e alla fine il mondo che fa i vocabolari mica gli studentelli che li portano sotto al fragile braccio in tutto ciò tornando a noi la solitudine la disperazione e immancabile la pazzia estremo rifugio della mente dal dolore più schiacciante non hanno permesso che mi dimenticassi di loro nemmeno qui in questa parigi appena sfiorata nemmeno per un giorno si sono presentate così nelle ultime ore della serata vigliacche come il buio che ama accompagnarle prima in una messa a tavola calda di plaspigal nella persona di uno scarno uomo anziano spaesato e mi è parso vacillante sul precipizio sociale delle lacrime in pubblico cacciandomi in gola l'ultimo flaccido boccone unto incontro il suo sguardo malfermo impaziente attesa proprio del nostro tavolino appartato tra tanti altri dalla desolazione apparentemente identica per poggiare se stesso e il suo pasto lì sud un vassoio reso più vuoto da quell'unica vaschetta di patatine fritte chissà quale valore doveva dare a quell'angolo dimenticato anche dai neon un frammento di niente che per lui poteva essere tutto poi nuovamente ai margini della maestosa piazza del nostro esordio parigino colmatasi nel dopo cena di rapper franco africani e pattinatori acrobatici in un'euforia giovanile senza gioia né pena apparenti ricco giacimento di pura necessità vitale bellamente incuranti quei nuovi francesi d'africa dell'esibizione architettonica del potere da parte degli alteri palazzi circostanti forse solo più ipocriti nel non tradire certa pecoreccia arroganza che li avrebbe eretti in italia emanando dalle facciate pallide lisce nient'altro che la celebre sobrietà europea propagandata per draghi e monti un simbolismo edilizio che su noi due invece opera magistralmente inibendoci fino in fondo alle nostre modeste origini là dove ristagna quel livore più benefico e impotente sovente gorgogliante dentro chi si lagna invocando rivoluzioni giusto per accodarsi eventualmente a cose fatte sulla via di casa per così dire che da piazza della repubblica vada a rampicarsi verso belville un uomo dalla pelle bleu scuro ciondola in ampi calzoni scesi sino a metagamba alternando soliloqui a monologhi rivolti ora in bombi elettronici della piazza ora ad alcune giovani turiste non molto risolute nel sottrarsi sospese come restano tra imbarazzo e scherno mi ricordo scrivendone di non averlo percepito come un pericolo benché fossimo alla portata della sua grossa mole caracollante ma piuttosto di essermi chiesto fino a quando qualche solerte garante dell'ordine costituito lo avrebbe lasciato dov'era indisturbato e inconsapevole del prezzo che avrebbe pagato finendo arrestato malmenato o più blandamente umiliato erano ancora belle vivide nella mia memoria quelle mitragliatrici dei soldati trovati all'arrivo solo qualche ora prima lungo i binari della gardio nord eloquenti quanto i neri manganelli dei vigilantes che mi avevano squadrato nel vagone semivuoto della metropolitana consigliandomi tacitamente di smetterla di adocchiarli e tornare a concentrarmi sul buio della galleria dentro cui correva il treno ancora un pizzico di gratuita filosofia morale così tanto per ingannare la fatica del ritorno in ostello fragile rifugio temporaneo nell'enormità d'intorno mi metto a ripensare allora quei due uomini quelle due solitudini così diverse tra loro ben più lontane della distanza tra place pigal e place della republique avrebbero trovato riposo e dove un materasso sfondato un cartone unto da chiamare letto oppure sarebbero crollate le loro carcasse in un punto qualsiasi di quell'inscalfibile indifferenza che li circondava microgiolo da sensibile di natura al sole morale di sto pensierino innocente inutile come se non sapessi che io non avrei mai fatto niente per loro provo così a sentirmi moderatamente in colpa per nobilitarmi come farebbe un giudizioso penitente bene questo era il testo e visto che abbiamo ancora un po di tempo due parole sul titolo il titolo notre vie et un voyage richiama direi abbastanza evidentemente quella citazione in apertura del voyage au bout de la nuit di Céline che Céline stesso attribuisce alle guardie svizzere quella canzone il cui primo verso messo appunto in apertura del viaggio al termine della notte la nostra vita è un viaggio nell'inverno e nella notte noi cerchiamo il nostro passaggio nel cielo dove niente più brilla e qui il titolo evidentemente richiama notre vie et un voyage sostituendo il presente indicativo la nostra vita è un viaggio della canzone delle guardie svizzere con l'imperfetto indicativo la nostra vita era un viaggio